In occasione della settimana della protezione civile che avrà luogo domani, giovedì 12 ottobre, alle 10 presso l'Aula Magna dell'Istituto ITIS, quindi Rosella di Biella, una giornata formativa, teorico-pratica sui temi della protezione civile, rivolta agli studenti delle scuole superiori. Obiettivo della giornata sarà quello di sensibilizzare i giovani sui temi di protezione civile per un approccio consapevole al territorio, che tenga conto anche delle nuove sfide globali poste dai cambiamenti climatici, con un riferimento particolare al rischio del dissesto idrogeologico. Ad aprire la giornata, il prefetto di Biella, Silvano D'Agostino, seguiranno i saluti istituzionali del sindaco di Biella, Claudio Corradino. Le principali componenti del sistema di protezione civile internerranno con alcuni video dimostrativi degli interventi compiuti e a seguire, gli studenti saranno invitati ad un'esposizione dei mezzi operativi e di soccorso che operano in scenari di emergenza. L'evento sarà trasverso in diretta streaming su Rete Biella.